Gate nasce nel luglio del 2023 con l'obiettivo di rivoluzionare il trasporto commerciale e di accompagnare i clienti ad affrontare la mobilità green nel modo più tranquillo possibile. Si basa sostanzialmente su quattro pilastri. Il primo è la G di Gate. Gate è un'azienda green, quindi dedicata esclusivamente alle proporzioni alternative. Oggi parliamo solo di mezzi elettrici, ma in un futuro neanche troppo lontano includeremo anche i veicoli ad idrogeno, per esempio. Il secondo pilastro è che è un noleggio a lungo termine, quindi oltre al veicolo forniamo tutti i servizi collegati alla sua gestione, da quelli più tradizionali come assicurazione, manutenzione, riparazione, pneumatici, a quelli strettamente legati alla mobilità elettrica. Quindi si arriva in grado di fornire l'infrastruttura elettrica presso gli stabilimenti dei clienti o dare la possibilità di ricaricare i mezzi alle colonnine pubbliche su tutto il territorio italiano con la carta di ricarica Gate. È un'azienda del gruppo Iveco, questo è il nostro terzo pilastro, quindi godiamo dell'esperienza del network dei nostri concessionari e della professionalità delle reti di officine autorizzate Iveco. Ultimo pilastro è quello che ci caratterizza rispetto alle altre società di noleggio a lungo termine. Noi siamo basati sul sistema del pay per use, quindi il cliente ogni mese pagherà solo i chilometri effettivamente percorsi gestendo con la massima tranquillità la vita del suo mezzo elettrico.